Allora, ragazzi, eh, che vi devo dire? L'ho fatto questo video, lo sto facendo perché lo volevo fare in strada, ma alla fine è meglio che lo faccio qui, perché sinceramente non mi va di farlo in giro per la città. Allora, mea Roma batte Milan 1-0, eh, meritata, stra-me-ri-ta-ta, non c'è che da dire, non so le statistiche come sono, però ho visto una Roma molto più arrembante, il Milan molto inconcludente nel palleggio, cioè, pareva che avesse paura di giocare. Poi, piano piano, anche il Milan è uscito fuori, ma solo nel secondo tempo, e neanche tanto, cioè, un po' Ciucuese, un po' Giroud, Gianni Giroud, un po' Ciucuese, un po' il solito Pulisic, che è uno dei migliori della partita, nulla da dire a Christian, nulla da dire, anche a Reinders, sei più, c'è. Calabria pure, Calabria, Reinders, Pulisic e Ciucuese. Loro tre, ok, ma Calabria non te l'aspetti che abbia giocato da migliore in campo, una roba veramente vergognosa per l'AC Milan. Vergognosa, perché adesso, la cosa bella, la sapete qual è? È che l'Atalanta ha battuto 3-0 il Liverpool, quindi vuol dire che in semifinale possono andarci loro. Quest'Europa League può giocarsi tra Roma e Atalanta, perché il Leverkusen non li conto, cioè, lì non li conto, perché sono forti. Però la Roma è riuscita a battere l'anno scorso e l'Everkusen può farlo di nuovo. Il Milan è ormai, non dico che siamo fuori, perché è ancora tutto aperto, perché se fosse stato come l'Euroderby l'anno scorso 2-0 con l'Inter che ci ha succlassato, il Milan non aveva speranze. Però, ragazzi miei, se il Milan con 1-0 e con quell'occasione nel secondo tempo si mette a giocare bene, allora forse vince, cioè, è anche a vincere. Basta un 1-0 per riaprire tutto, basta fare 1-0 e riapriamo tutto quanto. Però, ragazzi, ve la posso dire una cosa, che veramente, che ci serva di lezione, Milan-Roma, che ci serva di lezione, veramente, perché il Milan veramente qua deve... Cioè, se vogliamo diventare qualcosa, gli arabi devono comprarci assolutamente, e bocca a chiù devono comprarci gli arabi, punto, se vogliamo tornare grandi, perché serve investire sulla squadra e sull'allenatore. Io spero davvero che Maurizio Sarri arrivi, se dovesse arrivare, perché ho sentito su Forza Milan che Sarri dovrebbe essere il sostituto, il prossimo allenatore del Milan, al posto di Pioli, non Conte. Ma magari venisse Sarri. Sarri al Milan sarebbe un bel passo in avanti. Comunque, non ci scordiamo che Sarri è arrivato secondo con quella Lazio vergognosa, e quest'anno hanno perso in quel modo, perché la Lazio non si è ripetuta. Comunque, il Milan, allora, dicevamo Samuel Ciucuese ci ha provato, Pioli, sul passaggio di Giroud l'ha buttata in alto invece di buttarla dentro. Comunque, ragazzi, Pioli, in questa stagione una cosa gli è riuscita, quella di umiliare Oliviero Giroud. Cioè, non Giroud, che sto dicendo, quella di umiliare Samuel Ciucuese. Veramente, umiliare Ciucuese. Quel ragazzo ci ha portato nuove idee, cose, perfino Okafor qualche cosa è riuscito a farlo. Cioè, pure Okafor, che stasera Okafor, le poche cose che ha fatto, ha giocato molto meglio di Leao, Okafor. Voglio essere sincero, ha giocato Noah molto meglio di Leao. Okafor è davvero forte. Ma il problema è che Noah stasera ha giocato bene, ma Ciucuese è un altro livello, Samuel Ciucuese. Ripetiamo, ragazzi, una partita storta non fa di un gioco. Leao è stato applaudito a fine gara, perché c'è ancora il ritorno, ma perché può capitare, Raffael, tranquillo. Può capitare una partita storta. Tu non dico che ci hai provato, però può capitare che giochi male. E invece gli altri no, perché il resto della squadra, per colpa di Pioli, il vero fischiato di stasera, non ha fatto nulla. De Rossi ha strameritato la partita. Qualcuno potrebbe dire, però, Matte, tu simpatizzi Roma, è ovvio che ti va più giù. Ma più giù che cosa? Che cosa? Che io qua ho perso una coppa che si poteva vincere. Cioè, ma che cosa mi va giù? Cioè, perso no, c'è ancora il ritorno. Non diciamo stronzate. Non diciamo cagate, perché il Milan può ancora vincere il ritorno. Però Roma-Milan, Moco sotto 1-0, è difficile. Che facciamo, ragazzi? Sacrifichiamo il derby di Milano per cercare di conservarci i tomori e fare l'1-1. E fare, come si chiama, e fare l'1-1. Comunque, ragazzi, questo atteggiamento non si va da nessuna parte. Cioè, il Milan in questo modo rischia veramente di... Quando mai il Milan ha rimontato una partita d'Europa? Cioè, il Milan da quando non rimonta le partite d'Europa andate in ritorno? Non rimonta da... Rimontare, intendo, eh. Che anno era? Ehm, forse l'ultimo anno di Champions... No, manco. Dal 2000 e... 12... No, quello fu rimontato. 2001? No. 2010? No. 2009 non è in Europa League. Eravamo 2006... Eh, no, manco. Cioè, ragazzi, dal 2000... I miei, non rimonto una partita da quando ha vinto la Champions League in Europa. Da quando ha vinto la Champions non rimonto una partita. Ma ci rendiamo conto? Non lo so, ragazzi. Sì, comunque. Allora, dopo tutta sta predica il video finisce qui. Ah, Vincenzo, per te. Filippo ha detto che, a parte, diciamo, il secondo tempo dove il Milan si è un po' svegliato, la Roma ha meritato la vittoria. Ma ci mancherebbe altro. La Roma, anch'io lo penso, la Roma ha meritato di vincere. Non è niente da dire. Bene, ragazzi, il video è finito qui. Lasciate il like se vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima partita. Mo' sta solo Milan. Testa sta solo. Portiamoci a casa almeno il pari. Proviamo a vincerla per blindare il secondo posto. E, per favore, battiamo la Roma al ritorno. Proviamoci, almeno. Ok? Vabbè, siamo in forza Milan. E arrivederci alla prossima.